Ci troviamo alla struttura polivalente del nuovo di Via Olimpia, comunemente detto il pallone, si stanno allenando e divertendosi i baby atleti dei piccoli amici di mister Ucci Antonello. Lo vedete ancora, ognuno ha una vista diversa, giuventino, spagnolo, interista, romanista, ma adesso sono arrivati i kit per tutti, così tutti uguali come bravi soldatini. Ecco c'è uno pure con la maglia dell'Italia, povera Italia. Ragazzini che... Bravo! Qua ci sono i kit, qua c'è anche Luca. Luca, bravo! Sai già il tuo numero qual è? Il tuo numero? Ogni borsa c'ha un numero, tutti i capi di vestito c'ha un numero proprio per non perderlo. Il numero 20 ti piace, eh? Qua c'è il mister Billy, c'è anche il coordinatore dei mister, mister Giuseppe Gabriele Di Felice, il nostro coordinatore. Stanno divertendo i nostri piccolini.